Il mio saluto e il mio augurio a tutti coloro che vorranno seguirci in questo regalo che l'Accademia vuole fare, il mio ringraziamento a chi ci sostiene, ai soci e ai volontari che realmente pensano a tutto. Quindi il teatro per il suo flacco si sostiene grazie alla sua Accademia. E nell'augurarvi un buon 2021 e un felice Natale, iniziamo subito il nostro concerto con dei brani intramontabili e anche dei brani natalizi che ci allietteranno il cuore. Il mio saluto e il mio saluto. Il mio saluto e il mio saluto. Il mio saluto.